Sott'angandina l'imbalazzone, tutti e tutti senza pazzoni, organizzano una riunione, pi' precisare a situazioni. 40 guazzocati in filo per secco, giusto di due, sull'irono compatti in filo per secco, giusto di due, con pappi allineati in filo per secco, giusto di due, le coda toccigliate in filo per secco, giusto di due. 6 per 7,42 e più 2,44. Ingaghi il sogno bravo! Avviste un uccetto, cadumo a mannare un zecchino d'oro. Ciao!